Quella che verrà sarà una notte speciale per Elminio Pilunni. Il campionissimo di taekwondo dell'Accademia d'Alessandro domani comincerà gli esami di maturità. Da perfetto atleta la sua vita continua tra sport e studio presso il liceo scientifico ad indirizzo sportivo. L'attesa più grande è per il 22 quando avrà l'onore di essere tra i nove tedofori alle prossime universiadi. Sì, oggi è la notte prima degli esami, ho studiato abbastanza quindi spero che andrà tutto bene. E il 22 si porterò la fiaccola quindi sono onorato di questa cosa, contentissimo, felicissimo. Sono onorato io come onoro il maestro e la mia squadra perché la mia squadra mi ha sempre sostenuto in tutto sia nelle vittorie che nelle sconfitte. Ringrazio il maestro giustamente che lui mi ha insegnato tutto e mi ha portato ai livelli che pensavo ma non credevo di arrivare. Sì, all'inizio non riuscivo a crederci questa cosa, infatti ci ho messo qualche seconda a realizzare, ho detto come? Io quindi ci ho messo qualche secondo, però ora sono contentissimo perché è una cosa bellissima, una cosa indescrivibile. Quindi capisco i sacrifici che ho fatto, a che livello mi hanno portato e il mio nome, quanto è arrivato in alto, il mio nome è quello della società ovviamente. Idei chiare e schiena dritta per Erminio, nel suo futuro ci sono ancora lo studio e l'amore per il suo sport. Sì, dopo incomincerò l'università, disciplina scienza motore, che ovviamente cercherò di lavorarmi al meglio e a settembre mi aprirò col maestro in un'altra piccola sede. Quindi insieme all'università inizio ad insegnare un pochino. Grazie a tutti.